C'era una volta nel medievo una ragazza, 15 anni e bellissima. Questa ragazza aveva scoperto che ogni volta che cantava una canzone per suo padre, il suo cuore scoglieva immediatamente. E lei poteva lui chiedere tutto. Comprendi? Quando Carmen va arrivare nella scena e cantare questa canzone per voi, sono sicuro che voi permetterete tutto. Carmen suonerà per voi di Giacomo Puccini, di sua opera Gianni Schicchi, O mio bavino caro. Un applauso per Carmen Monarcha. Grazie. 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 curo. Grazie. Grazie. Grazie.